Vorrei esprimere la mia piena e accorata solidarietà alla rivista Micromega, un pilastro imprescindibile nel nostro paese per il sapere critico, una rivista che è stata e deve essere e sarà luogo di dibattito, di riflessioni e di pensieri del più alto profilo culturale. Sostenere una rivista come Micromega è decisivo per dimostrare che si crede nei valori della cultura e della formazione e io mi auguro che le istituzioni di questo paese sappiano dare il presente e il futuro che questo straordinario insieme di pensiero, di idee, di valori debba avere perché noi ci si possa dire una società autenticamente democratica.